Dopo la laurea ho deciso di venirmi a sporcare le mani in azienda. Oggi sono responsabile della produzione, dalla materia prima alle preparazioni delle carni, dalla stagionatura al convenzionamento. Mi assicuro che tutto funzioni come un grande orologio. Il tempo è il mio strumento di lavoro. Leggere il tempo mi aiuta ad ottenere la migliore stagionatura. Dettare i tempi rende armonico il lavoro della mia squadra. Il momento più emozionante è quando il tempo dà vita alla muffa. Ecco il sottile strato a dirmi che la maturazione è iniziata, che abbiamo servito bene il nostro tempo. La muffa è il velluto che protegge e accompagna ogni salume nel lento processo di stagionatura naturale. Si tratta di lieviti naturali. La loro presenza significa che la natura fa stagionare i prodotti, non la chimica, ma il tempo. Sono una ragazza ambiziosa. La mia pretesa è gestire la produzione come un delicato orologio, dove ogni ingranaggio è posto a servizio del tempo, nel rispetto della tradizione. Ed è grazie a questo rigore che oggi sono il punto di riferimento per la mia squadra.